ciao a tutti e benvenuti nel mio canale jessica asmr allora in questo video in realtà non so bene cosa farò ma il mio intento è quello di farvi rilassare ovviamente farvi addormentare attraverso dei mouth sounds dei movimenti delle mani e attraverso due oggettini spero di riuscirci ovviamente fatemelo sapere sotto nei commenti sto utilizzando le cuffie perchè ho già registrato due video con i blue yeti così mi sono portata avanti e nel mentre volevo farvi anche questo questo piccolo video e quindi eccomi qui rilassati 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 ah e ovviamente se notate questi diamanti strani sul mio viso perchè li ho comprati un sacco di tempo fa da primark ma non li ho mai utilizzati quindi li ho buttati così a caso in questo video in realtà non hanno uno scopo ben preciso però volevo provarli tu mi raccomando rilassati estraiati in un letto o in un posto comodo nel quale puoi rilassarti al cento per cento e preparati a chiudere gli occhi e ad entrare in un sonno profondo rilassando di prima ovviamente così da poter dormire tutta la notte tranquillo lascia ti collare dalla mia voce e guarda la mia mano che aggarezza il tuo viso dolcemente quasi sfiorandolo e guarda la mia mano che aggarezza il tuo viso dolcemente allora come prima cosa per rendere più rilassante l'atmosfera oltre al mio alberello natalizio dietro accenderò un bastoncino di incenso così qua così attraverso il fumo che poi farà voi vi rilasserete di più quindi ora spero senza fare troppo casino di accendere nel breve tempo nel minor tempo possibile questo bastoncino tra l'altro ho trovato solo questo accendino enorme e vabbè ci fa rimontare bene questo sperando funzioni adesso si vede allora tu lasciati collare da questo incenso aiuterà a scacciare via ogni tuo pensiero negativo e farà entrare solo pensieri positivi energia positiva via 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 ogni pensiero negativo risيا e vi assicuro che sentirete la testa molto più leggera molto rilassata sentite il profumo e seguite il difumo che produce questo bastoncino magico questo è il bastoncino magico che vi farà addormentare bastoncino magico tra l'altro ho anche un palloncino di quelli che spesso vendono nelle località di mare o a volte anche in centro nelle città quei palloncini che hanno le luci tutte attaccate sono trasparenti, non so se avete presente avremo intenzione di fare un video magari a luci spente solo con quel palloncino però fatemi sapere se l'idea vi interessa così lo faccio nel frattempo rilassate 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 entrate in questa nuvola di fummo magico e vedrete che poi al vostro risveglio starete molto meglio soprattutto con voi stessi perché questo è un fummo magico un fummo magico come siete voi magici per me e quindi vi meritate questo relax solo ed esclusivamente per voi sicuramente adesso avrete la mente molto più leggera e chissà magari vi siete anche già tormentati e se è successo sicuramente è per il potere di questo passaggio magico che sta agendosi alla vostra mente prelevando ogni 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 brutto pensiero perché voi meritate solo pensieri positivi e tanta felicità e questo bastoncino fa il caso vostro è un'altra è un'altra che Eccomi Sono andata a buttare il bastoncino Perché sennò Qua dava fuoco a tutta la casa E quindi Ho evitato di farlo spegnere da solo Ecco Comunque Adesso con questa penna Non so se si sente il suono Oppure fastidioso con questo microfettino Spero si sia sentito qualcosa Comunque Attraverso questa penna Magica Adesso Vi farò Letteralmente Addormentare Voi non dovete fare altro che Seguire Attentamente La penna E poi Vi prometto Che vi farà fare un bel viaggio Nei vostri sogni più belli Promesso Promesso Tu però Ovviamente Devi seguirla Solo così Funzionerà Il mio trucco magico E poi L'ora Che vi farà fare il mio Dove No Que vi farà fare il mio Francesco Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buonanotte.